Oggi al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure incontro tra la dirigenza e il gruppo di amministrazione di ACOS SPA con i dipendenti per illustrare un'indagine di mercato che si è voluta fare nei mesi scorsi. Qual è la valenza di questo incontro? Come lei giustamente ha ricordato abbiamo fatto svolgere come facciamo in modo costante negli anni essendo certificati abbiamo fatto svolgere da SVG che è un player nazionale di assoluta importanza che ha fatto un'indagine nei territori di nostra competenza e noi abbiamo l'orgoglio abbiamo anche la gioia di poter dire che sono stati dati molto interessanti quelli che sono usciti che ci premiano come azienda come gruppo e abbiamo un punteggio medio intorno all'otto ecco diciamo che è considerato dopo il 7 e mezzo già eccellenza quindi direi che lo diciamo senza presunzione ma insomma stiamo lavorando bene e quello di oggi è proprio un incontro che abbiamo voluto organizzare con tutti i dipendenti perché naturalmente è grazie ai dipendenti grazie a tutti che i risultati poi vengono fuori quindi colgo l'occasione proprio per ringraziare ogni dipendente del gruppo ACOS siamo ormai abbiamo superato i 400 se consideriamo anche gli indiretti quindi un gruppo molto importante solido e che dà servizi di qualità grazie